Il Grottaglia getta il cuore oltre l'ostacolo, batte per 4 a 2 il Foggia con una gran prova di carattere e riesce a dare una risposta a chi lo dava per spacciato. Gli uomini di Pellegrino giocano una gran bella partita, soprattutto riescono a raddrizzare con l'uomo in più la gara sul finire di gioco che si era fatta davvero pericolosa. Il Foggia infatti con l'uomo in meno era riuscito a portarsi dal 0-2 a 2-2 ma questa volta la reazione premia gli uomini di Pellegrino e il suo folto pubblico che ha incoraggiato dal primo all'ultimo minuto i bianco-azzurri. Con le immagini di Graziano Massafra andiamo a vedere la gara, Pellegrino schiera il 4-4-2 perché mancano Barbato, Pastano, Magliano e Camassa che hanno tutti rescisso il contratto. Tornano però Loris Formuso, Lenti e Salvestroni, Radicchio alla fine non ce la fa per la contrattura al quadricipite femorale. Il 4-4-2 del tecnico di San Pancrazio vede davanti alla Ghezza l'esordiente 40 a destra, poi Pinto a sinistra, Danese e Mitrotti la coppia al centrale. In mediana Lenti e Vitaliano sono elementi pensanti, Cristoforo e Schiavone gli esterni, Rebecca e Loris Formuso le punte. Nel Foggia di Padalino la difesa è a tre e c'è l'esperienza di Agnelli e Giglio. All'ottavo minuto il Grottaglio è subito pericolosissimo, c'ha il primo al fondo, cross dalla sinistra per Cristoforo che ci prova con una prima volta di testa e poi con il pallone che resta lì vicino opera un sinistro di controbalzo che il portiere Mormile alza sulla traversa. L'impressione però è che il Foggia quando si distende per avviare l'azione riesca a fare male. Proprio al nono minuto sugli sviluppi di un corner su una palla mancata da Cristoforo c'è la ripartenza da una con 40 costretto a far fallo per stoppare l'azione rossonera. Il giallo ci sta tutto. Il Foggia con gli esperti e tecnici Agnelli quinto alla porta prova a fare il gioco ma si vede solo a sprazia. Al quarto d'ora l'apertura del capitano rossonero per l'affondo e il traversone di basta è bloccato bene a terra dalla ghezza. Subito dopo il Grottaglio fa collezione di angoli, ne batte ben cinque consecutivi e al ventunesimo si ripete quello che era successo qualche istante prima con 40. Altra palla non controllata dai grottagliesi a centrocampo, il Foggia riparte Cristoforo stend Agnelli rimediando anche lui il cartellino giallo. Due azioni uguali e altrettanti cartellini gialli subiti dagli uomini di Pellegrino. Il Grottaglio però resta concentrato e al ventiquattresimo Rebecca lanciato a rete si produce in una buona progressione. La provvidenziale uscita di Mormile fa sì che il tocco vincente dell'attaccante non ci sia. Al ventisettesimo bene lenti per il Grottaglio che nella prima mezz'ora non solo recupera tanti palloni, uno di questi al ventisettesimo lo serve per mandare a rete Formuso che ci crede ma la difesa foggiana in qualche modo rimedia. Il fraseggio del Grottaglio in questo momento è buono soprattutto sull'auto di destra con 40 e Cristoforo. Poi l'imprevisto nella dinamica ma meritato vantaggio grottagliese accade al quarantesimo. Segna Vitaliano da centrocampo che va al rinvio, non sappiamo quanto voluto questo tiro, fatto sta che il pallone entra in rete perché è mormile, il portiere del Foggia scivola e la sfera rotola nel sacco nonostante la disperata corsa all'indietro dei difensori e l'1-0 per il Grottaglie. Passano due minuti e lenti serve Formuso che si invola, mormile lo ferma, Formuso rotola a terra e qui forse innervositosi per il mancato madornale errore precedente che ha fruttato l'1-0 grottagliese, il portiere peggiora la situazione e va a colpire Formuso. L'arbitro, la cui attenzione è attirata dal collaboratore di linea, torna sui propri passi Spelle, mormile decreta il rigore per il Grottaglie, occasionissima dunque per la squadra di Pellegrino che si presenta dal dischetto con Pinto, dopo qualche nervosismo di troppo tra Agnelli, mormile e lo stesso Pellegrino Pinto segna con il sinistro spiazzando il nuovo entrato Micale che Padalino manda in campo in sostituzione di Agostinone. Il Grottaglie si trova dunque sul 2-0 alla fine del primo tempo e la ripresa può giocarla con l'uomo in più. Ma qui accade quello che non ti aspetti, la grande reazione del Foggia. Padalino fa entrare Tomaseglia al posto di Coccia e vuole vincere la gara. Il Grottaglie commette l'errore di adeguarsi. Rebecca però al secondo sguscia via a sinistra ma non trova collaborazione dei compagni. Il Foggia è disperatamente in avanti alla ricerca del globo che riaprirebbe la sfida. Il Grottaglie va in contropiede al sesto, eccellente progressione centrale di Rebecca che serve Formuso, il cui destro però è stoppato dai difensori e preda facile di Micale. Il Grottaglie quindi corre ai ripari. Rientra Salvestroni dopo tanta assenza per infortunio al posto di Loris Formuso al sedicesimo. Un minuto dopo al diciassettesimo dubbio contatto in aria tra Rebecca ed Esposito il quale manca il pallone e frana sul numero 9 Biancazzurro. Tutto regolare per l'arbitro. E ancora un minuto dopo al diciottesimo distrazione fatale su punizione dalla trequarti offensiva. Il Foggia realizza accorciando le distanze. C'è una dormita generale di difensori grottagliesi. La porta è lesto ad anticipare tutto e ad insaccare anche se l'ultimo toppo sembra essere di Giglio. E' 2-1 per il Grottaglie. Qui però la squadra di Pellegrino ha un blackout che dura 5 minuti. Al ventitresimo infatti il Foggia incredibilmente pareggia. C'è Giglio che lavora un buon pallone con il solito mestiere dell'attaccante consumato qual è. Si gira di destro e impegnano una parata provvidenziale laghezza che respinge. Ma il pallone è preda di Palazzo che si avventa in tuffo sullo stesso e lo mette in gol dopo un tocco sotto la traversa. 2-2 tra Grottaglie e Foggia e i Dauni con l'uomo in meno riescono a raddrizzare la gara in soli 5 minuti. Pignatelli entra al posto di Lenti. Pellegrino dunque si sistema con Vitaliano e Salvestroni al centro. E poi in avanti la forza di tornare a fare il gol del 3-2. Ma alla mezz'ora si fa male Schiavone che viene sostituito da Presicci che si rivelerà determinante. Presicci è un 94 che va a sostituirlo. Al trentatresimo Rebecca lanciato in profondità va al tiro. Se lo fa ribattere in corner gli spettri per il pari interno già maturato un mese fa contro il Francaville e Lenzinni pare materializzarsi. Il Grottaglie però col Foggia che attacca vuole comunque vincere. Trentanovesimo Pignatelli ci prova da fuori. Il suo tiro è centrale e al quarantatresimo la squadra di Pellegrino torna in vantaggio meritato. Il 3-2 è il coronamento di una grande azione corale e di una grande reazione della squadra biancazzurra. Proprio Presicci ci crede e va via a sinistra su un pallone datogli magistralmente da Vitaliano. Dopo dribbling sul suo difensore basta. Il numero 16 Grottagliese mette all'indietro per la corrente Rebecca che incrocia in modo vincente sul secondo palo. E' il 3-2 che manda in visibilio il pubblico del Damuri ma non finisce qui perché al quarantacinquesimo Salvestroni trova la forza di andarsene via con un'ennesima ripartenza. Entrato in area di rigore salta l'uomo che lo mette giù. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore e il sigillo al match. Sul dischetto si presenta ancora una volta Pinto il cui sinistro è nuovamente vincente. Per il 4-2 finale che regala al pubblico Grottagliese una bella giornata storica per aver battuto per la prima volta il Foggia. Grazie.